DS Biogas è una società specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti biogas e oggi biometano. In pochi anni abbiamo realizzato quasi 200 impianti e siamo davvero diventati leader nel settore agricolo e agroindustriale nel biogas. La nostra parola d'ordine è sempre stata elasticità e misura. Per noi l'impianto di biogas è un impianto proprio tailor made. Va fatto, contestualizzato nel territorio, secondo le esigenze del nostro cliente. Oggi non ci limitiamo a essere technology provider ma offriamo al cliente proprio la possibilità di avere un unico interlocutore che sia in grado di progettare e realizzare l'impianto, farne il commissioning e anche la gestione. Dal luglio del 2018 IES è entrata a far parte del gruppo SNAM. Il biometano è uno degli sviluppi strategici più recenti e rilevanti per il gruppo SNAM che punta a essere oggi protagonista della transazione energetica. Chiaramente la presenza di un azionista così forte permetterà a IES di crescere in modo molto strutturato e veloce in Italia e all'estero. Noi tutti siamo chiaramente orgogliosi e felici di far parte di questo gruppo. Ci siamo posti degli obiettivi ambiziosi ma che siamo convinti di poter raggiungere. E quindi siamo pronti ad affrontare nuove sfide in Italia e all'estero con la grande energia e il grande entusiasmo che ha fatto della IES quello che oggi siamo.